wiki radio martin heidegger raccontato da donatella di cesare nella notte tra il 25 e il 26 maggio 1976 si spegneva a friburgo in brisgovia martin heidegger da allora la sua fama è andata via via aumentando diffondendosi e oggi heidegger sicuramente è considerato il più grande filosofo del novecento ma anche il più controverso gli oltre 100 volumi delle sue opere complete che ci ha lasciato appartengono al grande patrimonio della filosofia come non pensare alla terminologia filosofica che abbiamo in eredità cioè termini come per esempio la tecnica il dispositivo la svolta l'evento fanno ormai parte del dibattito filosofico contemporaneo ma soprattutto heidegger ha sollevato questioni filosofiche che sono per noi questioni ancora aperte il destino dell'occidente l'oltrepassamento della metafisica l'oblio dell'essere la questione della tecnica heidegger nacque il 26 settembre del 1889 a meschirch che è un paese di poche migliaia di abitanti nella regione del baden nella germania meridionale nel chiostro della chiesa di meschirch ha chiesto di essere sepolto la pietra tombale è sormontata non da una croce ma da una stella non può considerarsi priva di significato questa sua scelta cioè una sepoltura appunto nel luogo dove è nato meschirch e forse questa sepoltura ha un valore simbolico perché heidegger ha avuto sempre una ritrossia per il movimento e ha preferito sempre restare lì dove si è heidegger scrisse una volta nel 1924 a proposito di aristotele che la vita di ogni filosofo dovrebbe essere una vita senza biografia cioè svolgersi secondo una formula lui scrisse che si può condensare così nacque lavorò e morì ma per heidegger non fu così la sua vita infatti è ricca di eventi di colpi di scena di svolte come anche d'altra parte la sua filosofia e anzi l'una non si può capire senza l'altra heidegger stesso ha detto che per lo scienziato è concepibile separare la vita dalla filosofia per un filosofo no sarebbe una separazione artificiale heidegger fu molto legato ai suoi due genitori johanna kampf e friedrich heidegger così come fu molto legato al suo luogo di provenienza appunto meschirch cioè a quel paesaggio che circonda le fonti del danubio nella foresta nera il paesaggio cantato dal suo poeta preferito friedrich hölderling raccogliere la legna nel bosco riparare le botti per il vino suonare le campane al tempo giusto era questo il mestiere del padre heidegger intese non diversamente il proprio lavoro filosofico che ha molto del passo lento del pastore dell'arte paziente con cui il falegname predispone le assi di legno assecondando i desideri del padre heidegger dopo aver conseguito la maturità al ginasio di friburgo frequentò un celebre collegio dei gesuiti vicino felchirch però andò via solo dopo pochi giorni non aveva la vocazione si iscrisse allora alla facoltà di teologia di friburgo ma non era quella la sua strada cominciò ad avere dei dubbi si iscrisse allora alla facoltà di matematica ed era molto portato per la matematica se non che proprio in quel periodo cominciò a leggere Nietzsche e Kierkegaard soprattutto Dostoievski e furono questi gli autori che lo portarono a scegliere filosofia si iscrisse alla facoltà di filosofia e dunque cominciò a prendere le distanze da quel suo ambiente cattolico da cui appunto proveniva questa distanza fu sancita dalla conclusione dei suoi studi di filosofia presa infatti la libera docenza nel 1915 con un lavoro rimasto celebre la dottrina delle categorie e del significato in duskoto il pensatore che si preoccupa di assumere realmente il pensiero che cerco di preparare dovrà assoggettarsi a queste parole di Heinrich von Kleist che una volta ho annotato nei miei appunti io indietreggio di fronte a colui che ancora non c'è e mi inchino per un millennio davanti al suo spirito. Durante la prima guerra mondiale Heidegger fu arruolato ma ben presto congedato per motivi di salute. Tra il 1915 e il 1918 cominciò a svolgere seminari all'università ma in modo irregolare anche a causa degli eventi bellici. In quegli anni due furono gli incontri decisivi per la sua vita. Il primo incontro fu nel 1916 con Elfride Petri che sposò nel 1917. Elfride era protestante e allora non era facile un matrimonio in Germania, un matrimonio interconfessionale. Per Heidegger si trattò di un ulteriore allontanamento dal cattolicesimo. Nacque presto il primo figlio Jorg nel 1919. Subito dopo Elfride restò incinta e nel 1920 nacque Herman. Ma Herman non era il figlio legittimo di Heidegger il quale però lo accolse comunque e anzi fu molto legato a Herman. Si trattò però di un episodio per lui sicuramente traumatico che scosse profondamente il rapporto con la moglie. Un rapporto destinato a sopravvivere per decenni ma tra conflitti, dissapori e incomprensioni. Heidegger non restò fedele a Elfride e nel loro carteggio pubblicato qualche anno fa affiora appunto la delusione, l'amara delusione della moglie per la multiforme vita sentimentale di Heidegger che passava da una donna all'altra in un disseminarsi continuo e irrefrenabile. Nel 1916 Heidegger conobbe Edmund Husserl. Husserl fu sicuramente anche, rappresentò il secondo incontro decisivo della sua vita. Era stato Husserl da poco chiamato a Friburgo ed era considerato il fondatore della fenomenologia. Heidegger aveva già letto la grande opera di Husserl, cioè le ricerche logiche. Come risulta anche dalle testimonianze, il loro fu un rapporto molto conflittuale. Sebbene dal 1918 al 1923 Heidegger sia stato assistente di Husserl all'università emersero per resto i contrasti sia filosofici che personali. Heidegger aveva cominciato a sviluppare il proprio pensiero prendendo le distanze da Husserl e aveva cercato una sorta di sodalizio filosofico con un altro filosofo, Karl Jaspers, che in quel periodo insegnava a Heidelberg. Nel 1924, grazie alla mediazione di Paul Nathorp, Heidegger riuscì ad avere la cattedra alla Università di Marburgo, dove restò fino al 1928. Furono quelli di Marburgo anni leggendari, non solo per Heidegger, ma in fondo anche per la filosofia del Novecento. Gli studenti che frequentavano allora le sue lezioni, che sedevano appunto sui banchi, sono stati in gran parte i protagonisti della filosofia del Novecento. Ricordiamo rapidamente i loro nomi, sono Karl Löwitt, Hans-Georg Gadamer, Georg Kruger, Günther Anders, Hannah Arendt, Hans Jonas, Herbert Marcuse. Insomma, nomi importanti del pensiero del Novecento. In tutti loro resterà impresso il ricordo delle lezioni di Heidegger, come lui non insegna nessuno. Così dicevano, così hanno ripetuto per anni. Professor Gadamer, che cosa si propone nel pubblicare i suoi scritti su Heidegger, di cui lei fu amico e compagno di pensiero? Senza dubbio, la comparsa di Heidegger negli anni venti del nostro secolo è stato uno degli avvenimenti filosofici più sensazionali. L'influsso che già allora, negli anni venti, essere e tempo esercitò su tutto il pensiero europeo, anzi mondiale, fu enorme. Ma proprio per questo venne a consolidarsi una determinata forma di ricezione del suo pensiero. Erano tempi in cui si era portati a identificare, per così dire, fenomeni diversi, quali la teologia protestante rappresentata a Marburgo da Rudolf Bultmann, o il nuovo interesse per la filosofia di Kierkegaard esploso nel primo decennio del nostro secolo con la filosofia di Heidegger. Ma in questo contesto culturale si verificò un interessante fenomeno. Lo stesso Heidegger, che con Essere e Tempo aveva acquistato improvvisamente fama mondiale, è ritornato a Friburgo, il suo paese d'origine, si incamminò su nuovi sentieri del pensiero. Le conferenze e gli scritti successivi ad Essere e Tempo vennero legati in modo troppo drammatico al concetto di Kierke, di svolta, una parola questa che generalmente viene intesa in modo errato e che non significa una inversione di marcia, bensì una curva, la curva del sentiero che prosegue, come in un tornante, pur voltando nella direzione opposta, si continua a salire per il monte. Ed è proprio così che l'intendeva Heidegger. Ma questa svolta fu in realtà un distacco da un'autocomprensione che veniva ancora proposta in Essere e Tempo, ma che non soddisfaceva le sue intenzioni più profonde. Si produsse allora negli interpreti la spaccatura a cui lei accennava, tra coloro che vedevano in Heidegger, un drammatico esistenzialista, un filosofo dell'esistenza e tra i più che lo vedevano finire in una sorta di incomprensibile mistica poetica. In quel periodo Heidegger lavorava al suo grande libro, alla sua grande opera e cioè Sein und Seid, Essere e Tempo, a cui è legata la sua fama e che è stato pubblicato nel 1927. A quel periodo risale anche la relazione con Hannah Arendt che lui stesso in seguito definì la grande passione della mia vita. Si trattò però a ben guardare soltanto di pochi mesi perché già prima dell'estate del 1925 Hannah Arendt, che allora era 19enne, lasciò Marburgo per andare a Heidelberg e continuare a studiare filosofia con Jaspers. Heidegger cosa scelse? Scelse la concentrazione del lavoro, la famiglia, ma dall'ora in poi fu nell'amore per così dire un transfuga e non fu mai a casa più presso nessuna donna. A partire dal semestre invernale del 1928-29 Heidegger fece ritorno all'Università di Friburgo e tenne la celebre lezione inaugurale intitolata Wasis Metaphysique, che cos'è la metafisica, nella quale prendeva ufficialmente distanze da Husserl. Quella di Husserl era la filosofia chiamata fenomenologia, quella di Heidegger era l'ermeneutica. Nel marzo del 1928 si tenne in Svizzera a Davos un celebre confronto critico tra Heidegger e Ernst Kassirer, che era il protagonista, l'esponente di spicco del neocantismo, e allora il neocantismo era una delle grandi correnti della filosofia tedesca. In fondo Heidegger ne uscì vincitore, dalla sua parte si schierarono in molti, tra i quali anche Emanuele Levinas. Ricordo che sono andato a Friburgo da studente per conoscere Heidegger e per assistere ai suoi corsi universitari. Avevo la firma intenzione di scrivere la tesi sul suo pensiero. Era il periodo in cui Heidegger era già molto celebre e quindi non era difficile riconoscere in lui un maestro. Tutto quello che affermava era al tempo stesso stupefacente e denunciato con autorità. Io non ero ancora ben al corrente dei rapporti tra Heidegger e Hitler. E poi, all'epoca, il presunto nazionalsocialismo di Heidegger non costituiva un problema come oggi, perché Heidegger aveva un indiscutibile carisma personale. La sua simpatia per il nazismo appariva secondaria e irrilevante rispetto al suo modo di dominare i problemi filosofici. Era un personaggio assolutamente affascinante. Esercitava un'influenza molto forte anche sui suoi colleghi, sui filosofi. Si aveva l'impressione che se Heidegger diceva qualcosa, come dire, non valesse la pena discuterne. La fama di Heidegger, considerato, come ha detto Hannah Arendt, il segreto monarca della filosofia tedesca, correva in tutta la Germania e già nel 1930 Heidegger rifiutò una prima chiamata all'Università di Berlino. In seguito scrisse un breve saggio intitolato Perché restiamo in provincia. Questo saggio lo scrisse nel 1933 quando ebbe la seconda chiamata all'Università di Berlino. Heidegger in questo saggio si riferisce alla provincia che però non è quella di Meschir, ma è quella di Thutnauberg, dove lui si era costruito insieme alla moglie Elfride una baita, una chütte, un po' come quella dei contadini tedeschi. Alcune foto mostrano la sua scrivania in un angolo della baita, quattro piccoli scaffali da un lato della parete in legno, bastano solo per qualche lessico. Tutto indica intimità, raccoglimento, silenzio. Il suo pensiero è legato sicuramente a quel luogo dove la meditazione non cerca ampiezza ma cerca profondità per risalire a quella che per lui era la fonte della filosofia. Boschi, colline, legna da ardere, sentieri, il luogo per lui è decisivo. La contrada alemanna disse più volte non è solo il luogo della provenienza ma è il distretto di un impegno. La filosofia scaturisce dalla nostalgia, dal dolore di essere lontano ma chi lo avverte più si chiede Heidegger. Filosofia è, dice, l'intimità raggiunta a partire dalla inquietante lontananza. La baita di Tottenhauberg ha per lui, ebbe per lui un fascino selvaggio che parlava di ritiro e di concentrazione. Disse, questo è il mondo del mio lavoro, e così descrisse quella sua intimità. Quando nel profondo della notte invernale una violenta tempesta di neve avvolge la baita, copre e vela tutto, allora è il tempo della filosofia. Fu nei mesi invernali tra il 1931 e il 1932 trascorsi a Tottenhauberg che andò delineandosi, diciamo, la sua scelta del nazionalsocialismo. Vale a dire il radicalismo politico di Heidegger, fortemente influenzato anche dalle scelte della moglie, andò indirizzandosi appunto verso quella adesione. Il primo maggio del 1933 si iscrisse al partito nazista, dal quale, bisogna sottolineare, non uscirà mai, e qualche giorno prima, il 21 aprile 1933, era stato già eletto rettore dell'Università di Friburgo. Il 27 maggio 1933 tenne...